Una Puglia che corre a doppia velocità sul commercio. Il piatto della bilancia nel primo trimestre dell'anno scende per quasi 428 milioni di euro, con il segno più sulle province di Lecce e Foggia, mentre la tendenza negativa è tra Bari, Bat, Taranto e Brindisi. A dirlo i dati del report dell'Osservatorio Economico a Furisma, che ha monitorato ed elaborato i numeri di esportazioni e importazioni su scala regionale da gennaio a marzo. Analizzando i dati per provincia, il saldo positivo più importante lo registra il territorio Salentino, le imprese hanno esportato beni per un valore leggermente superiore ai 202 milioni di euro e ne hanno importati per quasi 153 milioni, così da segnare un più 49 milioni 394 mila euro complessivo. A fare il paio le aziende foggiane, che a fronte di un import di poco inferiore ai 236 milioni, le esportazioni oltre i confini regionali si sono attestate a oltre 240 milioni. Il differenziale peggiore invece è quello delle imprese brindisine, seguito da quello barese che fa segnare un disavanzo di quasi 111 milioni di euro e delle aziende del Tarantino, negativo per oltre 80 milioni di euro. Il segno meno segna anche la BAT, provincia nella quale l'import si attesta a 241 milioni e supera di 51 milioni di euro l'export fatturato. Nei primi tre mesi del 2023 la Puglia ha importato beni per un valore complessivo di 2 miliardi e 914 milioni di euro. Ad essere acquistati soprattutto beni come carbone e generi alimentari, sono invece diminuite le importazioni con il dato di 2 miliardi e 914 milioni, anche a causa dell'incertezza alimentata dal quadro internazionale e alla inflazione elevata. Le aziende negli ultimi anni hanno avuto grande richiesta di prodotti agroalimentari e macchinari, seguita dagli articoli in pelle. Per Davide Stasi dell'osservatorio l'export è fondamentale per poter accrescere le quote di mercato, quindi allestire gli spazi commerciali con più eventi, guide, promozioni, presenze, ma anche attraverso la protezione dei nostri marchi.